Rega 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 nuova season dopo che doveva uscire ieri ma non è più uscita perché ovviamente big games boh ha fatto casini è successo un macello e non è più uscita ieri Finalmente oggi 9 marzo faremo la nostra prima partita nella stagione 2 capitolo 5 Allora sono uscite 4 città il mondo sotterraneo, cupo cancello, monte olimpo e campo di battaglia del mastino 4 città diverse con 4 boss sono uscite un sacco di cose super super interessanti che andremo a vedere oggi Guardate qua la nuova chest che contiene sempre la nuova cosa di Zeus quindi il nuovo potere speciale di Zeus È molto molto forte anche se in certe situazioni non è troppo saggio utilizzarla adesso comunque vi andrò a spiegare Sono uscite secondo me le cose più belle di questa stagione ovvero le ali rega le ali sono veramente spettacolari e stupende Quindi adesso appena le troveremo vi faremo vedere cioè vi farò vedere come si usano e tutte le cose super fighe Nel frattempo vi direi eccole lì eccole lì guardate sono già terra qua c'è un tipo è un tipo ok era un po' fermo un po' ubriaco sto tipo ma va bene così Abbiamo qua la fialetta è uscito no sta mitraglietta c'era già questa qua non c'era già mi sembra Eh sì questa qua è nuova poi abbiamo questo qui raga sto pompa super OP super OP e anche sto assalto qua a me piace un sacco È un mix tra un cecchino e un assalto e mi piace mi piace davvero tanto 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 Poi abbiamo le ali adesso vi farò vedere come si fa praticamente sono ali che tu puoi letteralmente volare puoi schivare a destra puoi schivare a sinistra puoi fare un sacco di cose belle Ok ecco qua il tipo boom e boom morto perfetto e ste ali sono veramente troppo divertenti per un semplice fatto Praticamente tu con ste ali puoi volare cioè raga non è che voi potete potete planare o fare no puoi proprio volare ovviamente hanno un utilizzo e dopo un po' finiscono Però tu per quanto durano le ali puoi volare puoi schivare puoi andare a destra puoi andare giù puoi andare su cioè puoi fare quel cacchio che ti pare in aria però Quindi figata pazzesca ne abbiamo trovato un altro di pompa che dobbiamo lasciare i nostri nemichi perché noi ce ne abbiamo già uno Ok molto bene molto bene e adesso vi faccio vedere come si prende il boss Praticamente voi andate dove ci sta questo segnale qui perché dove c'è sto segnale c'è sta statuina Voi la sfidate fate così sfida buttate la statuina e poi non so bene come funziona qui Ok spawnano o dei lupi oppure dei tipi che vi vogliono uccidere in questo caso ci sono i tipi ma in altre città tipo ci stanno i lupi Penso dipenda dal monte sotterraneo e cupo ci sono i lupi probabilmente Invece qui ci stanno gli scagnozzi tipo dell'antichità greca non lo so bene Comunque uccidiamo sti tipi ok dovrebbero essere gli ultimi due se non sbaglio Un headshot ovviamente no ovviamente no un headshot direi ok headshot E adesso spawna il boss quindi ci togliamo un attimo questo che voglio una mitraglietta per uccidere il boss E infatti il boss è esattamente qui spawnano altri npc ovviamente per romperti le scatole Però però mi sembrano anche boss più scarsi di quelli della seconda season e questa cosa mi piace perché La scorsa season raga erano veramente troppo p che si ricaricavano lo shield ed era un casino ucciderli Quindi ok ok rispawnano altri e l'abbiamo ucciso Ci dà come arma quest'arma legge Uh quest'arma mitica mi piace un sacco Però una cosa che non ho capito è che i talismani medaglioni non danno più lo shield Cioè non ti si ricarica lo shield con i talismani Quindi boh Cioè sta cosa non mi piace perché mi piaceva un botto il fatto che ti ricaricava lo shield Però vabbè raga ci dobbiamo accontentare Comunque qui abbiamo Aia 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 Vediamo se riusciamo ad uccidere il primo bomber di oggi Col coso vi faccio vedere anche Zeus Praticamente fa così e dopo un casino assurdo e tira super fulmini devastanti Ok craccato E dovrebbe essere Dove è andato? Dove è andato? Ha buildato 46 cose Aia e vabbè bro ma builda un po' di meno Basta buildare Devo fare tipo Ok ho capito Devo fare lo scalatore Devo scalare tutto Fermi Dove sta? Dove sta il boh? Il broh? Broh? Amma mia raga sta gente che gioca così vi giuro che non la sopporto Non la sopporto Ah fermi 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 facciamoci lo shield Tanto dovrebbe andare in safe Va bene sapete cosa vi dico? A me di uccidere sto tizio non me ne frega così tanto Quindi piuttosto andiamo via e vi faccio vedere pure come si svolazza Potete pure accelerare ovviamente usate più turbo Quindi se non è essenziale Vi consiglio di non usare il turbo Però vabbè Voi svolazzate in giro per la mappa Vivate le vostre cose con le ali Andate super in alto Potete schivare a destra Potete schivare a sinistra Però pure questo Ogni cosa che fate usa un po' di energia Cioè volare normalmente è la cosa migliore Se avete tempo e non c'è nessun nemico che vi vuole uccidere Comunque qua c'è la fontanella Tipo nel monte olimpo c'è la fontanella Forse l'hanno già Ok sto ancora scrutando Vuol dire che hanno già ucciso il boss probabilmente Quindi sarà uno di questi qui che avrà già ucciso il boss E noi dobbiamo uccidere lui Dovrebbe stare qua sotto Qua sotto sicuramente c'è qualche nemichello Ok ok Allora E qui ve Ah scappa Scappa il bomber Ok bro Guarda che non mi puoi scappare a me Non mi puoi scappare Con le ali forse sì U26 Mamma mia Ma che mira Che mira Ma questo qua Ah è a raffica Ok Io pensavo fosse l'arma tipo quella con sette colpi Infatti ok È un fucile a raffica Vediamo se c'aveva il talismano sto tipo Non c'aveva il talismano sto tipo Ok Ma allora chi ce l'ha perché la fontanella non mi indica nulla E nella mappa Ah no perché mi sa che nella mappa ancora non possiamo vedere chi ha i talismani Vediamo No l'area della posizione è rivelata Però Io non rivelo nessuno 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 Non lo so Magari non posso ancora Va bene Va bene va bene Andiamo Continuiamo a svolazzare per la nostra mappa con le nostre ali Rega E con sta cosa In teoria Con i medaglioni Puoi pure aprire i bunker Che dovrebbero stare Qua vicino Ancora Non me li segnala nella mappa Ok questo qua c'ha le ali E potrebbe essere il tipo che c'ha il secondo medaglione Perché io In sto video Vorrei pure capire Cosa succede se prendi tutti i medaglioni Perché con uno Mi sembra che non succeda nulla Con di più Uh Uh Super morto Super morto Ci scambiamo pure le sue ali Che l'aveva più fullate di noi Ok andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Ok 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 La gente raga Mmm Non so dove Vabbè andiamo verso S'occupo cancello Che sicuramente Ci saranno i tipi Con gli altri medaglioni Che sono sicuro da uccidere Comunque raga Allora Sta season Sembra veramente Che spacchi Mi piace un sacco Mi piace un sacco La dinamica Dei Delle ali Mi piace un sacco Zeus I nuovi boss Sono strafighi Che li devi sfidare Per attivarli Quindi Non ti rompono le palle Se Tu in quel momento Ovviamente Non vuoi uccidere il boss Ok Qua c'è un medaglione a terra Probabilmente Hanno ucciso il tipo Il portatore Quindi dobbiamo sbrigarci Ad andare E infatti è lì Però Mmm Allora Al monte olimpo Mi sa che C'è ancora il medaglione Non lo so raga No Non può esserci Io in teoria La fontana L'ho attivata Ah ok Dopo un po' Dopo un po' Non puoi più volare Ok C'è tipo un blocco Che è una certa Non puoi più volare Qua sono i bunker Che vi dicevo prima Raga Questi qua Quelli che puoi prendere Solamente con i medaglioni Qua in sta mappa C'è un tizio Nero Non so cosa Cosa sia E che cosa voglia Vabbè Proviamo ad ucciderlo E qua ovviamente C'è il tipo Col talismano Molto bene Molto bene Quindi Andiamo a vedere Che cosa vuole Sto tipo Ah ah Aia 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 Secondo me raga Non dà nulla Di così tanto interessante Oddio Ma è un boss È un boss Super OP Ok Speriamo che mi dia Qualcosa di figo Ok Oh Mi dà la chiave Cos'è Sempre quella dinamica Hanno lasciato la dinamica Che Che posso vedere La prossima Safe zone Probabilmente Sì Probabilmente È quella cosa lì Comunque Attenzione rega Perché Allora La schedina Ovviamente Si attiva qui E qui abbiamo Il tizio Col medaglione Qua vicino Quindi stiamo attenti Perché sicuramente Non è scarso E noi nel frattempo Ci mettiamo la schedina Qui Ok Ok Possiamo vedere Dove chiude La prossima Safe Molto bene Molto bene Ok Questo è il tizio Col medaglione Solamente uno Di noi due Avrà i medaglioni Bro E quell'uno Sarò io Un bel 77 Già Ok Stracraccato Sto tipo Ok Dovrebbe essere Praticamente morto Rega Vai Ok 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 Oh Tre medaglioni Rega Fermi tutti Ma scusa Ma cosa mi serve Avere i medaglioni Se non mi carica la vita Io questo non ho capito Allora L'arma Adesso abbiamo Un'altra arma mitica Che è questa cosa qui E poi Probabilmente Ah Abbiamo il pompa Quindi abbiamo già Tre armi mitiche Molto bene Io però Non ho capito A cosa mi servono I medaglioni Se non mi caricano Lo shield Cioè mi fanno solo Vedere dagli altri Rega Non Vi giuro Che non ho capito Sta cosa Boh Boh Non lo so Non lo so Bam 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 Morto pure lui O forse la carica Non lo so Se carica lo shield Sapete che forse Sì Prova a hittarmi Bro Hittami 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 fra Dai Che mirai Che mirai Vabbè sto tizio Rega Cioè Ok Abbiamo capito Abbiamo capito Non è il più sveglio Della galassia Dai muori Ok Eh Ah possiamo Jumpare Quindi Forse i medaglioni Ti danno tipo Dei superpoteri Durante la partita Non lo so Non lo so Ehm Vediamo Vediamo Ah sì 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 Forse con i medaglioni Puoi tipo jumpare Perché Aspetta Se io li tolgo Posso ancora Jumpare Vediamo se mi si ricaricano Viaggia attraverso il mondo degli spiriti Ottieni cariche di scatto Ok Quindi questo mi dà le cariche di scatto Potere di ripristino della vitalità Consente di sottrare salute Quando si elimina un nemico Bellissimo Quindi questo Quando uccido un nemico Mi dà vita Preparati alla guerra Infonde danno maggiore Nelle tue armi a distanza Ah ok Quindi Non è più Tutti i medaglioni Caricano vita Ma sono dei veri e propri Power up Tipo Sto medaglione Mi permette di scattare L'altro Di prendere la mia vita Quando faccio kill E l'altro Quando Hit Dalla distanza Molto Molto figo Raga Così mi piace ancora di più Piuttosto che Ricaricare Che era un po' noioso Che ti dava solo lo shield Invece a sto giro Invece a sto giro Devo dire Rega Intanto qua c'è la cestolina Che avevano aperto Con l'evento Che adesso è completamente sommersa Dal fiume Dal lago Io sono curioso di sapere Qual è l'arma mitica Che ti danno Catturando La bandiera Di solito Cioè la prima volta Che hanno messo sta roba Mettevano l'arma super OP Tipo quella laser Dopo hanno capito Che era troppo OP E hanno iniziato a mettere Armi che fanno un po' schifo In sta cosa Io sono curioso Sta stagione Mi avete messo Un'arma forte Per cui ne vale la pena Salire qua sopra Oppure mi avete messo Una cacatella Che nessuno Utilizzerà mai E l'isola Rimarrà sempre Un posto inesplorato Dove ci stanno solamente I camper Vediamo Vediamo Per ora sta salendo Un tipo Proviamo la mitraglietta Rega Uh sembra forte Sembra molto forte Oh 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 cavallo Oh 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 cavallo Oh oh cavallo Ok Rega la dinamica Che quando fai la kill Ti dà lo shield Mi piace tanto Mi piace veramente Veramente tanto Quindi Big up Big up Peccato per Il monte olimpo Perché Non so perché Ma non mi ha fatto Uccidere il boss Io avete visto Che sono andato qui Dove c'era la fontana Però Non ho capito Ah ok In sta season Addirittura Addirittura Non Va bene Va bene Non ti dà proprio L'arma mitica Va bene Va bene Va bene Va bene Nessuno Nessuno ci andrà Allora Svolazziamo un po' Per la mappa Noi tanto sappiamo Dove sono le cose E possiamo anche andare Nel bunker Adesso vi faccio vedere Il bunker Molto molto figo Come si apre Perché non è esattamente Nella città Però è nei dintorni Quindi Devi fare un po' di strada Per trovare le cose E va bene Molto molto bello Rega Guardate che figata Guardate che bello Come stiamo Svolazzando Nel cielo Di fortnite Cioè Guarda che panorama Guardate che panorama Mi sa che a una certa Smetterò di Ecco tipo La barra sopra È la barra Di cui posso volare Adesso si è scaricata Infatti Non posso più volare E sto andando giù In picchiata Ok Ok capito Capito tutto Capito tutto Molto bello Molto bello Però vabbè Anche quando scendete in picchiata In realtà Svolazzate un po' Quindi questo qua È il bunker Che hanno già aperto A sto giro Probabilmente il tizio Che aveva il talismano E questo qua È il bunker Ci stanno un po' di armi Potete modificare le armi Ovviamente non posso modificare nulla Perché sono tutte mitiche Infatti Non si può fare Non si può fare Vabbè Andiamo via E andiamo a vincere questa partita Regà Andiamo a vincere sta partitina Andiamo così Secondo me Allora La prossima safe è qui Però Io vorrei andare ad uccidere le persone Per vedere un po' Che cos'altro di bello Ad offrire questa season Ok qua c'è Peter Griffin Ci andiamo in picchiata Adesso vi faccio vedere raga Quanto è forte la picchiata Guardate qua c'è Peter Griffin Che non si è accorto di me E noi andiamo addosso Boom Fa un botto di danno eh Cento E uccidiamo pure La nostra popcorn star Via 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 Let's go Con spazio Ascendi Che vuol dire Che in realtà sali Cioè Ti dicono ascendi Ma in realtà Ascendi Andiamo Andiamo avanti Ma io posso tenerlo premuto Sì Posso tenerlo Mamma mia quanto vado veloce Con sta roba Madonna quanto vado veloce Andiamo addosso Andiamo addosso No Aia Ok Abbiamo preso la vita Dalla kill Ma quanta vita ottengo Dalla kill 50 Oh mio dio È come avere lo storm Il coso raga Il Il siphon Quella cosa che c'era in arena Un po' di tempo fa Che quando facevo una kill 50 HP Solo che tu ce l'hai I nemici no Quindi potrebbe essere Super oppista Raga Mi sa che il medaglione Che ti dà la vita Potrebbe essere Il più forte di tutti Abbiamo altre ali Se hanno Ok 300 full Mi piace Qua c'è il tipo Vediamo 48 32 32 Sì Faccio un botto Di più di danno Uh Alte due kill Allora Qual è quello Aspetto del combattimento Questo qua è l'aspetto Del combattimento Quindi È quello Che Che quando sparo Dalla distanza Faccio più danni Io sono curioso Di sapere Quanti danni in più Quindi adesso Facciamo sta prova Tipo qua faccio 33 Qua Quanto faccio 32 Proviamo a togliere Il medaglione del combattimento Vediamo quanto danno faccio Vabbè 45 in headshot Direi anche Grazie al cavolo Mamma mia Raga ma stiamo demolendo tutti Cioè sta partita Sta durando pochissimo Perché Stiamo veramente Finendo la partita Dopo due secondi Allora Vediamo dov'è l'ultimo tipo Andiamo un po' in giro Magari Vabbè Sicuramente si sta nascondendo La mappa è gigantesca E siamo solamente in due Quindi Immagino che sarà un casino Adesso trovare l'ultimo Vediamo dov'è Noi andiamo Nel frattempo molto in alto Anche se tra un po' cadiamo Sì Stiamo cadendo in picchiata Aiuto Aiuto No Allora Mmm No stiamo cadendo Vabbè Non fa niente Non fa niente Ok Eh il tipo raga Il tipo Non lo so se lo troviamo Eh Non lo so se lo troviamo Aia Aia Ok 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 Comunque Devo dire Devo dire Scrivete qua tutti sotto nei commenti Prima di tutto E non lo dico mai Codice Calpis per supportarmi Perché Perché sì Se shoppate il nuovo pass Se volete essere dei veri calpisotti E dei veri pro player Codice Calpis E questo è molto importante E poi Scrivete qua sotto Nei commenti Eh Il voto di questa season Eccolo Eccolo Lì il bomber Allora Voglio sapere Prima Il danno che faccio Col talismano Versus Danno senza talismano Quindi 33 Col talismano E 31 Vabbè Vi devo dire Vi devo dire Due danni in più Non è male Non è per niente male Oh Prima vittoria della season Signori Prima vittoria della season Non primo tentativo Perché Sono morto 10 milardi di volte Prima Io vi ringrazio per la visione Ci vediamo nei prossimi giorni Con altri video E ciao ciao Belli Ciao belli Grazie a tutti